Buongiorno a tutti e bentrovati in questa edizione del frigirazzo online. Una palla ha avuto un giramento di testa perché purtroppo soffre di vertigini da parecchi anni. Mentre era affacciata alla terrazza la stessa stava per cadere. Fortuna che i pompieri stanno rassalendo sul palazzo mentre i loro rinforzi tengono giù il gonfiabile qualora la palla cadesse. Ma adesso passiamo la linea al nostro inviato. Sì, potà, grazie per la linea. Siamo qui in terrazza e stavamo per intervistare qualche abitante del palazzo per capirne di più. Io sono gravi tanto per l'ultimo piatto del palazzo, però per lì mi sembra la palla che faceva annanza a rete. Solo che non non ci capito niente perché stavo mangiando i piatti dei vongoli che avevo mandato a mamma. Io sono quello che abbia affianca la palla, perché sono svegliato, perché stavo a dormire. Vedete, cosa è per questa palla? Ma non capito niente, perché sono svegliato? Ora ho capito, ora c'ho un capito di più. Passiamo adesso ad un'altra notizia. La penna è caduta dalla mensola ed è scoppiata. Per fortuna non è di grave, ma diamo la linea al inviato per sapere di più. Sì, grazie per la linea. La penna è caduta ed è scoppiata. Era stata apportata all'ospedale e fate bene le coccole per fare degli accertamenti. Ma per fortuna è nulla di grave. L'ambulanza a Stuccio è stata molto tempestiva. Ci sono arrivati subito i soccorsi. Buongiorno e benvenuti nel loro spazio dedicato al meteo. E di poco fa la notizia di alcuni piccoli batuffoli di cotone di neve che sono caduti nella balli chiara. Ce lo segnala un vostro collaboratore sul posto che è stato sorpreso mentre mangiava un piatto di mappardelle. Stava mangiando queste paste e la servisse tutta una roba con un troiaio. Ora mi scusi che se no la pasta si fredda che l'è buona. Resta confermato il tornado di spaghetti al nord previsto in zona Milano. Tantissima gente sta già affollando il piazzale dell'uomo di Milano. Per oggi è tutto. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.